E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds Mi presento, sono Pennebo Dove potete 93 E questa è la serie Dello Road to Diamonds Negli scorsi episodi Ciao carino, che sei bello Negli scorsi episodi Abbiamo costruito questa struttura Guardate quanto è bella Piano piano prende sempre più forma E off camera ho scavato un altro strato Perché deve essere alto 1, 2, 3, 4 e 5 Per io rnf1 e quindi ciao Ragazzi oggi capirete Cioè oggi sarà la svolta Perché oggi termineremo questo buco Cosa andremo a fare in questo buco? Beh, beh, beh Intanto ci servono due materiali Allora ci servirà la neve e l'andesite Quindi prendiamoci un po' di andesite E posiamo questa roba qua Mi faccio uno stack di andesite levigata E sì, è di neve Me ne servirà un puttaputtanaio Perfetto, ok Mi toccherà andare dal bellissimo Pepo de Janeiro Ciao Pepo, sto venendo Ciao Pepo, non mi tradischi Devo liberare l'inventario Quindi tutta sta coblestone Me la devo levare Perché, perché vi do fattiglio Perché è cioppa È cioppa Cioppa, cioppa, cioppa Comunque ragazzi Dobbiamo andare a fare un po' di neve Come va questo mercoledì? Perché vi ricordo ragazzi Che la Road to Diamonds Uscirà tutti i mercoledì Alle non so che ora Un attimino sugli olari Ci stiamo lavorando Eh Pepo Bravo Pepo Allora, se io adesso scavo qui Giusto per farmi una scala Oh, guardate quanta bella neve Perfetto Quindi ragazzi Mi toccherà farmare un bordello di neve Perché mi servirà Cioè davvero ragazzi A cagare mi serviranno gli stack Proprio a cagare Si può dire a cagare? Certo si può dire Stiamo nel mio canale Che bello Posso dire a cagare Mamma mia Che bello Non Mi sono svegliato da poco Avevo voglia di giocare alla Road Cioè proprio avevo voglia Ho detto Mi sono svegliato Salve a dire Minchia Ha voglia di fare la Road to Diamonds Ahahah Minchia proprio So voglia Eh Quindi si Però io sto scavando E non sto prendendo le palle Le palle Che poi vorrei capire Perché tutte le cose A stack di 64 E le palle di neve A stack di sé Perché Non lo capì perché Perché Minecraft Perché devi rompere i coglioni così Minecraft Qualcuno di voi sa il perché Perché 16 Cioè tutte le cose Si staccano a 64 Le palle di neve Stai scherzando Le palle di neve 16 Sa babbiano Cioè magari qualcuno Si riempie l'inventario Di palle di neve Le va a vendere A miliardi e miliardi Di soldi Cioè una cosa Che vale così tanto Cioè stai scherzando Così come i cartelli E i Oddio come si chiama E le uova Perché ha stack di 16 Perché Non capisco Signor Minecraft Perché non mi fa portare Uno stack di palle di neve Che che cosa Non è che posso uccidere un bambino Con uno stack di palle di neve Signor Minecraft Perché mi fa questo Io già non ho voglia Di prendere la neve Perché è pallosissimo Perché Mamma mia Veramente Mamma mia Cioè ragazzi Con quattro palle Fai un blocco Scrausissimo Con quattro palle Fai un blocco Quindi con uno stack di 16 faccio quattro blocchi La tristezza tristissima Tristi tristi C'è una mucca vicino a casa mia Ci mancava pure che rompevo la pala Ho rotto la pala non credo basteranno però per il momento la neve che abbiamo diciamo mi va benissimo ciao per come si vabbè per non riconosco più gli animali di un minecraft c'era un gripper grosso brutto e verde ciao orsetto orse mica orsetto mamma mia tipo 4 metri per 18 comunque allora andiamo a dormire in modo tale che si fa giorno e adesso si va a terminare quello che sarà no non mi viene il nome quindi si andiamo a terminare secondo me questa neve non mi basterà nemmeno per fare la base allora comunque adesso dobbiamo fare questa cosa qua ovvero mettere la neve tutta e dico tutta così batonmi c'è ve lo dicevo no c'è già già l'ho finita comunque ragazzi va vi volevo dire un'altra cosa allora sappiate che questo sabato e questa domenica la fatemi vedere i giorni ovvero sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre sarò al romix quindi se volete venirmi a trovare sappiate che sarò la quindi semplicemente questo ve lo volevo fare sapere ragazzi allora sarò a romix se volete venirmi a trovare sappiate che sarò la sia sabato che domenica anche se domenica tipo alle 9 o l'aereo quindi non so a che ora me ne andrò non so davvero ragazzi non so partirò giovedì quindi sapete che da giovedì fino a domenica sarò appunto a roma però a romix sappiate che sarò sabato e domenica ok siamo giovedì e venerdì ripasso in giro per roma diciamo mi faccio gli stragrandi che sono in giro con degli amici perché conosco degli amici che voi non conoscete che non sono youtube bello quindi voi non li conoscete sono amici miei che conosco da anni e ne approfitto per stare con loro diciamo ne approfittiamo ne approfittiamo allora comunque è rimasto uno stack solo e non ce la farò mai devo ancora fare tutte le pareti matto a me ma in ogni caso adesso la neve me la dovrò andare a fare allora fortunatamente ho già scavato le pareti perché sinceramente non avevo voglia di scavarle quindi bravo dobbiamo fare il contorno del cerchio quindi vedete 2 1 2 2 poi qui saranno 7 questo qua ragazzi sarà il contorno bam del nostro cerchio e adesso quello che dovrò fare semplicemente è questo guardate tararam tararararararà tarararararararararararararararararu però se io sbaglio ammettere la neve già ne ho tantissima cioè veramente già l'ho finita perché l'ho finita la vita è orribile mamma mia minecraft non mi vieni per niente incontro mai nella vita non c'ho nemmeno le palle per raccogliere le cose fastidio guardate che bello è tutto così bianco mi piace devo dire così bianco in ogni caso andiamo a mettere dei blocchi di andesite in questi punti perché qua tua sorella mi dà i baci no non è vero perché altrimenti la mia ragazza mi picchia tantissimo però prenderei a testate l'inventore di minecraft perché è veramente mamma mia queste può essere che mi basteranno non lo sapremo mai a meno che non andiamo a provare allora in ogni caso allora a me serve un'altra pala di diamante quindi dove sono i bastoncini non ci sono i bastoncini non ci sono i bastoncini basta pala l'ho craftata sti bastoncini me li levo e andiamo a fare un altro po di neva ok va benissimo ho fatto quasi 5 stack vanno bene penso bastino e non ne sono sicurissimo ma penso bastino salve signora mucca stia bene mi raccomando perché di solito vicino casa mia non rimangono tanto in vita gli animali quindi buona fortuna eccoci qua allora mettiamo il vetro sopra quest'andesite comunque penso che dovreste star capendo cioè oramai dai eh quanti di voi ci sono arrivati? quanti? eh? dai ragazzi non è difficile non mi dire che finisco i pannelli di vetro e me ne mancano niente me ne mancano niente vabbè sono sfortunato vabbè in ogni caso allora adesso allora adesso devo fare questa neve la riprendo ah mi dalle ah vabbè vabbè ok mi ridà fortunatamente se le rompo mi dà ok perfetto quelli per ricraftarli va benissimo la neve la devo andare a mettere guarda guarda che non mi bastano i blocchi per chiudere i buchi e continuiamo a mettere la nostra bellissima neve perfettissimo ok chiudiamo tutte ste robe vabbè sti cazzi dai pure se perdo tre blocchi non muore nessuno sì però se sbaglio a piazzare invece sì se sbaglio a piazzare sì che barbabietola vietolante ok no ragazzi vi giuro proprio gli schiaffi che mi darei in questo momento fatto beh oddio non proprio fatto perché aspettate alla prima devo levare sta neve che ho sbagliato a mettere ok e devo piazzarla sotto questi cubiti vabbè però se sbaglio a piazzarla come sempre diciamo che no eh ok abbiamo fatto guardate qua che bella ho delle torce yep allora andiamo a mettere una torcia qua una torcia qua una torcia qua e un'altra torcia qua perfetto ragazzi piano piano penso che state cominciando a capire che cosa voglio fare dai non è difficile dai eh che cosa sarà mai questa neve che abbiamo fatto l'andiamo a mettere qua non si sa mai comunque ci può tornare ancora utile adesso allora mi serviranno assolutamente lalalalalala un paio di alberelli qua di da bete il ghiaccio proprio ce l'ho a quantità non industriale di più dovrei aver preso tutto quello che ci serve allora i pannelli di vetro per terminare ovviamente il contorno diciamo il balconciuino perché ovviamente non vogliamo mai che cascano cose che non devono cascare è bello mamma mia quanto è bello e adesso ragazzi dovremmo costruire una cosa del genere allora dobbiamo fare una specie di casetta ora a me ci siete arrivati allora questo qua se siete arrivati qui oramai ve lo devo dire allora sarà uno zoo ok uno zoo dove ci sarà ogni habitat per ogni tipo di animale quindi grazie al commento di Stefano che mi ha lasciato un bel paio di episodi fa ho pensato di andare a fare sì uno zoo però andare a fare un igloo dentro lo zoo ok per ogni animale andare a fare diciamo il suo habitat se è così si può dire no qui lo facciamo alto 3 circa sì andiamo a fare un'altra cosa qua e questa striscia di qua la leviamo perché non lo troppo perché non lo troppo perché non ho tocco di velluto porca vacca fa niente allora andiamo a fare un'altra cosa così e un'altra cosa così ok ahimè non ho blocchi da usare quindi mi dovrò arrangiare e fare in questo modo allora questa qui sarà diciamo tipo la cupoletta riuscite più o meno a immaginare l'igloo più o meno dai ci assomigliano è bella è bella è bella e adesso dobbiamo fare la porta per entrare in questo modo fatta questa qua sarà l'igloo dei nostri orsi oh mio del nostro orso visto che per il momento ne ho uno solo dai ragazzi è molto accogliente dai è molto accogliente dai che ci sta ci sta ci sta andiamo un attimino a casa perché voglio prendere appunto la legna da bete perché voglio realizzare sì un qualcosa di diciamo un habitat tipo naturale come se avessi preso un pezzo di terreno tipo di dove loro abitano e tipo sono andato a metterlo là mi serve il legno di abete cioè non ho legno di abete può essere mai che io non ho legno di abete io che tutta casa mia è fatta legno di abete non ho il legno e infatti dicevo ma sei stronzo infatti io che non ho il legno di abete è come dire che Rocco Sifreddi non ha i preservativi cioè capisci bene che come può Rocco Sifreddi non avere i preservativi cioè per forza non esiste ecco che poi le lastre di abete le abbiamo che a me le lastre mi servivano arrivato a un certo punto perfetto fatto eppure le staccionate di abete ok oh raga ho tutto qui accanto all'igloo ho pensato di andare a costruire una specie di tettoia no mettiamo caso piove vedete stica cazzo te ne fotte si vabbè ok avete ragione più o meno però comunque volevo fare una specie di tettoia per loro facciamo più o meno una cosa del genere tipo così io non so che sto facendo cioè ragazzi sto andando molto a caso che nel senso comunque la sto facendo molto un po' così beh dai non mi dispiace dai diciamo è uno spicchio di questo cerchio dai devo dire mi piace molto e adesso con le staccionate di abete andiamo a fare sì vabbè proprio sì proprio questo volevo fare cioè proprio da 1 a 10 questa cosa qua volevo fare provo a sbagliarli tutti 1 e 2 perfetto come vi pare allora è una piccola tettoia per gli orci non so magari si andranno a riparare quando che ne so piove o ci saranno le cose comunque cazzi di loro ma arrivato a un certo punto non mi interessa io l'habitat io lo sto facendo poi se loro non lo usano sono fatti loro no sicuramente non mi possono fare un video contro perché io le cose belle gliele sto dando sono un deficiente comunque sì andiamo a mettere pure qualche torcia per illuminare sempre nelle stesse posizioni quindi qui e qui quindi qui e poi qui ok adesso un'altra cosa che voglio fare bababam allora andiamo a rompere qui e lì ci andiamo a mettere la neve che non cium maledizione vabbè per il momento va bene così e dobbiamo scavare una cosa del genere ragazzi qui sarà una cosa molto casuale allora voglio fare una specie di ruscello qua magari ci facciamo tipo che ne so una zona ghiacciata prendiamo il ghiaccio e facciamo tipo una cosa così molto a caso perché alla fine diciamo l'acqua si espande un pochettino così a caso e qua voglio creare una specie di isolotto tipo diciamo una specie di zona centrale non lo so qualcosa di così mi piace e qui facciamo altre due cascate no dai si mi piace mi piace ragazzi mi piace mi piace mi piace allora questa cosa sapete che la sto vedendo con voi più che altro la stiamo facendo un attimino un po' così allora mi faccio un attimino un po' di blocchi di neve va benissimo e andiamo a tappare questi buchi vabbè ti pareva che andava a sbagliare proprio non era mai capitato è mai capitato che io sbagliavo a piazzare blocchi mai mai e qui voglio fare semplicemente una specie di laghetto laghetto con cascata è un'idea geniale si lo potete dire pepo sei un genio ma donmi proprio mamma mia il genio in contrastato di pepo e qua andiamo a mettere però aspetta prima mi faccio l'acqua infinita perché così non devo andare tipo chissà dove a farla ok andiamo a mettere una cascatella qua dai e pucci dai che pucci mi piace tanto è una cascatella qua dai dai ci sta ci sta abbiamo questo piccolo laghetto diciamo a cascatella allora qui però io voglio scavare voglio farlo un attimino pure un po' profondo non tutto giusto un attimino e qui sotto sapete che vi dico invece di far vedere la stone andiamo a prendere la sabbia e ci mettiamo la sabbia tanto alla fine non si nota tantissimo però preferisco vedere la texture della sabbia che non della stone no della stone no sono un pisello per un attimo ho pensato oh madonna mino non la sabbia no 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho state tranquilli che ce l'ho e un'altra cosa che mi serve è la farina d'ossa quindi mi prendo questo bellissimo osso ci vediamo dopo berre che ti faccio vedere la tua nuova casetta dai che ti piacerà oh mi ci sto impegnando eh l'unica cosa che ci manca sono gli alberi di abetano per rendere tipo il tutto un attimino un po' più bababam quindi un albero lo voglio mettere qua dai qua qua è bello qua è bello mettiamo l'erba qua mettiamo lui sopra e lo facciamo crescere con la nostra farina d'ossa perfettissimo signor albero creschi oh bam guardatelo che carino mi piace davvero mi piace allora lo torciamo così fa pure luce un attimino qui intorno andiamo a mettere la neve qua e sempre con la nostra bellissima acqua tananana abbiamo fatto questa bellissima cascatella allora prendiamo l'acqua e la dobbiamo fare la dobbiamo fare la dobbiamo mettere non fare perfetto devo dire che mi piace diciamo si è venuto a creare questa specie di solotto e adesso voglio creare tipo delle montagnucce di neve tipo così però non le posso fare troppo alte perché altrimenti cioè troppo basse perché altrimenti poi gli orsi ci salgono e scappano tipo una cosa del genere sì è tipo una specie di ammasso di neve diciamo qualcosa per dare un attimino un po' di irregolarità alla cosa dai mi piace adesso prendiamo la sabbia e quello che devo fare semplicemente è levare questa stone e mettere la sabbia semplicemente buchiamo tutto perfettissimo e andiamo a mettere la sabbia in questo modo dai che mi piace dai mi piace è una cosa sì fatta da me però dai non sembra diciamo molto naturale devo andare a mettere però un altro albero un albero solo mi sa di me voi che dite sì dai lo metto lo metto un altro albero perché gli alberi sono belli perfetto dai mi piace moltissimo e o non è un'altra cosa cioè alla fine non si nota tantissimo la sabbia perché non si nota ci potrò benissimo pure lasciare la stone però vedete la texture comunque non lo so lo preferisco quindi vado a fare pure qua la stessa identica cosa e vado a mettere tutta la sabbia qui sotto ed è una cosa fatta un attimino diciamo a caso comunque va cioè non è che ho detto oh mio dio il ruscello deve venire così no ma a caso come siamo bravi a fare noi proprio alla cazzo di cane e l'altro alberello lo vorrei mettere qua ok detto però l'alberello mi si va a inculare poi nelle cose vediamo se cresce intanto vai se cresce qualcosa di grande eh mi sa che non cresce eh no non cresce eh ti pareva troppo vicino quindi qui non va bene però se lo sposto di qualche blocco tipo qua qua mi cresci dai dovresti poter crash ok bam devo dire mi piace allora queste cose però le levo e come sempre torciamo tutto attorno perché non voglio che spawni nulla ed eccolo qua ragazzi dai come vi sembra nemm dai che ne dite intanto qua mi faccio una montagnetta di neve alta sempre due blocchi per evitare che salgano gli orsi quindi così due tre tre ok va bene è una piccola montagnetta giusto per dare un attimino un po' di eh ed eccolo qua ragazzi dai come vi sembra come habitat certo però arrivando qua quest'albero mi copre l'ingresso dell'igloo però alla fine dai non è un problema perché se mi metto qua vedo tutto si 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 lo lascio quest'albero dai lo lascio lo lascio dai mi piace molto molto facciamo una scala del cavolo di cobblestone per il momento va benissimo ok giusto per farlo scendere mi va bene così torniamo nella nostra stalla e prendiamo una cordicella perfettissimo ciao signor cavallo con l'armatura d'oro è bellissimo proprio fantastico ragazzi dobbiamo portare il nostro bellissimo orsettino si vabbè magari non con la bistecca allora dai vieni qua vieni qua andiamo ti mostro il tuo nuovo habitat dai ti piacerà tantino non ti rincoglionire dai che ti piacerà tantissimo dai andiamo vieni con me come ti sembra sarà la tua nuova casa allora certo per il momento sei da solo vabbè ma magari un giorno e non troppo lontano sì gli ho fatto le scale e sì per carità cioè mi stai scherzando comunque eccola qua la tua nuova casa come ti sembra ti piace alla fine direi tu ma mi fa cagare sticcaci dovrai stare qua ragazzi la nuova casa la nuova casa dai che gli piace a me piace davvero tanto quella coble sono comunque a despawnerà sti cazzi per il momento il buco lo chiudo così ragazzi io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto vedete vedete alla fine gli sta piacendo questa tettoglia devo dire mi piace molto moltissimo abbiamo creato questo ruscello diciamo naturale che per naturale non è perché è artificiale però quello che vi voglio far capire è come non so se voi avete studiato la differenza tra i parchi naturali all'inglese o alla francese diciamo chi fa architettura la differenza l'ha studiata i parchi all'inglese oddio adesso non vorrei confonderli comunque la differenza tra i due sta che un tipo è costruito diciamo seguendo sì il pensiero dell'uomo ma diciamo immaginandolo come la natura potrebbe realizzare diciamo questo parco mentre l'altro tipo proprio è un parco costruito proprio con forme geometriche tipo ad esempio giardini magari a forma di quadrato quindi proprio dove si vede molto la caratterizzazione dell'uomo e io ho voluto fare diciamo più o meno un po' di entrambi comunque ho costruito un cerchio però poi dentro questo cerchio ho voluto realizzare diciamo un qualcosa che possa sembrare naturale tipo un ruscello d'acqua tipo quelle cascatine magari ho messo qualche albero poi sì ho aggiunto quella tettoia che appunto a me piace moltissimo e poi un ingloo dove possono andare a dormire è bellissimo questa cosa davvero è bellissima fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e nulla ragazzi noi come sempre ci vedremo ad un prossimo episodio della road to diamonds ovvero ci vediamo mercoledì prossimo alle non so che ora sapete che ogni mercoledì uscirà proprio pistola puntata alla tempia un episodio della road quindi potete stare tranquilli a meno che non pubblico qualcosa sul mio telegram o su instagram dove vi dico che non uscirà potete stare tranquilli quindi a proposito vi ricordo di seguirmi su telegram e su instagram trovate i link qui sotto in descrizione oppure basta che cercate su instagram pepo3393 o su telegram pepo3393 news scritto nevs capito con la w in ogni caso link in descrizione detto ciao ragazzi noi ci vedete un prossimo video vivo io bene e ciao ciao ps vi aspetto a romix questo sabato e questa domenica ciao ciao